Un'altra visione Quello è Neku Quello è una E' una palla di energia E' la palla di energia Quella che abbiamo visto In The World End With You Eh certo The Last Day Dove ti nascondi? Hanno detto in mezzo all'incrocio però E' questo che non mi piace Tu hai giustito tutta la città Ma almeno Chita Ninja aveva un obiettivo nel farlo Lui sarà di elemento fuoco sicuro Dove sono Neku e Beat? Si ok fallo anche tu fretta dai Dai qualcuno dica qualcosa Oh e meno male che è arrivato Esatto E tu l'hai fatto per tre volte quindi Beh anche noi effettivamente E' l'hai fatto E' l'unica che non è l'interno E' l'hai fatto E' l'hai fatto anche Io sono nervoso Che Ok ti non ti sembra nervoso Deve essere Deve essere La verità che non sai Cosa significa nervoso Ehi Cosa devi ringerci Mi sono chiamati Non è proprio il giusto. Ne dubito però L'unica che ci può aiutare è Ozuki Tutto buio È la dark mode di qualsiasi gioco C'è un maiale di già Non ci sono missioni secondarie Però Oh finalmente Abbiamo lo sblocco delle ultime due super spille Ma a me al momento non interessa Perché mi importa della multi spilla Perfetto E qua entra in gioco E quale altra spilla buttiamo dentro Io ti direi di buttare dentro un altro quadrato Però aspetta un secondo No 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 Non era questo che intendevo io Gioco sono a merda La spilla aggiuntiva non è Non è un secondo set Quindi due quadrati e due triangoli Diventano tre triangoli e un quadrato per dire Io non voglio avere quattro spade così Anche se in realtà Cacchio Non è per nulla quello che volevo A sto punto puntavo davvero un'altra super spilla E che adesso non ho veramente idea di come buttare su Gli attacchi Perché a prescindere non posso neanche mettere un'altra super spilla di triangolo Per dire Vediamo come gira adesso Abbiamo quattro spade di cui Tutti loro Fra di loro Si combinano a vicenda Speriamo bene Eheh E' questo che mi preoccupa Allora Non posso dire che non funzioni Non posso dire che non funzioni la combinazione Però non mi sembra efficiente Non mi sembra Efficientissima come combinazione Sicuramente Arriviamo A un beat molto alto In fretta Però poi rimaniamo scoperti Perfetto Funziona ma Allora non voglio negarla Questa combinazione Non era male Ma avrei preferito Veramente Che l'avessero divisa In modo diversa La cosa delle multi spille Nel senso Se tu mi dai Due possibilità Di avere Più spille Io la prima cosa Che vado a pensare Sarà Quindi Due volte triangolo E due volte Quadrato Per dire Non tre volte Uno E una volta Le altre Avrei preferito Veramente Che fosse Come dicevo io Adesso dobbiamo vedere Se quattro spade Funzionano Proseguiamo Allora Questa spilla Non mi sembra Così Buona Da costare Così tanto E fare così poco E soprattutto Neanche si evolve Bah Che strano Comunque Questo vestito Io Te lo prendo Grazie E A sto punto Tanto dobbiamo Prendere Ogni oggetto Di tutto il gioco Prendiamo Tutto quanto Esatto Per arrivare A livello massimo Cliente stellare Ah tra l'altro Ho appena notato Il potenziamento Della guarigione A livello 4 Solo il 15% Davvero? Cioè scusami Neku Con potenziamento Attacco Si becca il 50% E lei se ne becca il 15% Con il potenziamento Guarigione Vabbè che guarigione Potrebbe essere abbastanza Rotta come abilità E ci può stare Però Cavolo Oh ma c'è beat Non me l'aspettavo Cos Con che ti scrivi? Sono cavoli miei Non sarà mica una ragazza Smettila ok? Tanto non lo leggo Che me l'hai educato Dovresti almeno leggerlo Oh E che cavolo No va bene così Fai come ti pare Questo posto è un macello raga Non sembra nemmeno più Shibuya Sì Non ho mai visto una cosa simile È dura pensare che fino a qualche settimana fa Ci divertivamo per queste strade Sembra una città completamente diversa Però perché non rispondi a tua sorella Beat? Perché? Cioè non la vuoi far preoccupare Questo me è sicuramente la motivazione Però Loro due Come butta Twisters? Ehi ragazzi Quindi le voce che giravano erano vere Sei tornato cuffiette? In carne e ossa Non pensavo che ti saresti più fatto vivo Non vi vedo troppo In forma Siete sicuri di essere all'altezza della situazione? Sì Andrà tutto bene Ma ci fareste un gran favore Se riusciste a occuparvi dei rumori nel PR Per favore Ah certo Non è che abbiamo di meglio da fare Al momento siamo sotto organico Ma mi tirerò sulle maniche per compensare E spero che voi facciate lo stesso per vincere il gioco Yes Ma guarda Certo Lo considero una promessa Contate pure su di me Combatterò per Shibuya fino alla fine Mi raccomando Non abbassate la guardia Shiba è un peperino niente male Lo sappiamo Grazie Ci vediamo alla fine Bah Oh ma guarda Finalmente qualcosa di nuovo Ce l'hai Potenziamento Killer Remix Ok Questo sì Può essere buono Grazie Quanto ci fai? Esa Porca di quella Miseria Lo sapevo Ho detto Appena arriviamo in una prossima zona Incontriamo qualcun altro Aspetta Ma quella è Coco Ciao Ma guarda un po' I Witchet Twisters Sono felicissima di avervi incontrato Ora posso augurarvi il meglio Di persona Perciò buona fortuna Non è che ci regali una spilla Prima di salutarci Buona fortuna In che senso? Devi aiutarci a cancellare quel rumore Yo Ah E perché dovrei? Parentesi un attimo Prima di andare Ci avevano detto O meglio Ah ne come ci aveva detto Che il rumore Tapiru gigante Che abbiamo affrontato Nel capitolo extra Di The World End With You L'aveva creato Un demone Dai poteri Molto forti Il punto è Perché adesso Non sta facendo Nulla Coco Perché siamo in pochi Ci servirebbe una mano Oh ma io ti sto già aiutando Neko Benché un rozzuticone Dubiti del mio impegno Sto dando il massimo Per farvi vivere felici E contenti per sempre E cosa stai facendo Di preciso? Ah La smetteresti di farmi il terzo grado Sorella Bello Sto cancellando rumori E aiutando la gente in città Faccio tipo un sacco di cose Ok? Hai ragione Non dovevamo dubitare di te Forse Eppure percepisco un forte tratto Di inaffidabilità Nel suo carattere Wow Sei acida eh Ad ogni modo Non importa cosa pensiate Io darò tipo Tutta me stessa Per salvare la città Perciò ditemi È tutto pronto? Se aveste problemi con Shiba Kaie potrebbe aiutarvi E chi era Kaie? Aspetta Kaie? Ah è il tipo Delle Del futuro Certo Eh sì L'ho appena detto Perché sa tipo tutto Della città Potete fare quello che vi pare Cioè Ma io ve lo dico È meglio se andate da lui Prima di prendere decisioni Magari avrà Delle informazioni da darci Beh Non so bene Che cosa sappia Ma sa più di una principessa Delle fate come me Ok Contatteremo Kaie Che meraviglia Credo che sia Udagawa Non è lontano Prova a mandagli un messaggio Non risponde Starà scrivendo a qualcun altro Non riesce a gestire più di una conversazione alla volta Wow Dite che dovremmo andare a cercarlo Sì Udagawa è piuttosto vicina Beh credo che le nostre strade Ora si dividano Cioè Buona fortuna Grazie Wow Grazie Coco Tu sì che sei utile Boh Io non ho capito Il personaggio di Coco All'inizio Allora L'ho capito Grazie al fatto che Ha sparato Tra virgolette A Neku Per chiedergli aiuto Ma non ho capito Il suo personaggio in sé Nel senso Nel gioco precedente Aveva talmente tanto potere Da evocare Un cazzo di rumore Che distorcesse La realtà E i sogni E qua è la principessina Delle fate Lei è la principessina Delle fate Come lo sono io Oh no Alastor Per chi non l'avesse capito Era malocchio Volevo mettere Esatto L'ultimo Graffito Che abbiamo ottenuto E non ho idea Di dove metterlo Mi fa sentire più importante Di quanto io non sia In realtà Tra l'altro Ho gli occhiali Perché mi facevano male Gli occhi Ed è raro Vedermi con gli occhiali Ultimamente Era da moltissimo tempo Che non li mettevo Effettivamente Mentre registravo Ho dimenticato Di uccidere il maiale Qui a Takeshita Street Prima E l'ho sentito Sei qua vero? Come ci arrivo lì? Boh vabbè È arrivato lui da me Give me Give me chance È il maiale Quello che si divide? Madonna mia Quattro spade Quattro spade Perfetto Non lo so Non lo so se Se può funzionare Contro nemici più grandi Perché la combinazione Di prima Mi sembrava Che girasse Molto meglio Certo Basterebbe Tornare indietro Penserete voi È vero ma Avevo mille idee Nel momento in cui Pensavo Avrei sbloccato Quell'abilità lì E invece Si è distrutto Tutto in un attimo Sai qual era una bella spilla Che c'era in The World End With You 1? Quella del fulmine Madonna mia Faceva Anche fin troppi danni Cioè Ne avevo equipaggiate due Il che voleva dire Avere il doppio dell'utilizzo Dio mio Quella spilla Era fantastica Perché Non solo faceva un colpo di fulmine Che passava Dritto Ma Trapassava tutti i nemici Sul suo percorso Contro la versione finale Di Kitaninji Quella spilla Era fantastica E funzionava Contro tutti i boss Era quella La cosa ancora più incredibile C'è qualcun altro Che mi fermerà Qui In mezzo alla strada Sicuramente sì Ci vuole un attimo A fare un sacco di soldi Ci vuole ancora meno A perderli tutti Oh ma guarda chi c'è L'unico demone Che non c'ha Que Ha aiutato praticamente mai Ehi Quello non è Ishima Ciao Salve Witchet Twisters Ehi E' un po' tardi Per chiederlo Ma Tu Da che parte stai Concordo E' un po' tardi Se dovessi scegliere Tra Shinjuku e Shibuya Mi esterei Le mie azioni Non sono guidate Dalla devozione Per una città in particolare A quale azione ti riferisci Sto cercando una persona Ok Chi Non sono questioni Che vi riguardano Dovreste concentrarvi Solo sul compito Che vi attende Vi auguro il meglio Ciao anche a te Chissà chi sta cercando Boh E' un demone di Shinjuku Vero? Si Era il braccio destro Ishiba Anche se sembra Che non andassero Molto d'accordo Oh Si Ishima sta sempre sulle sue Osserva tutto da lontano E il cap Shiba Non l'ha mai cercato Lo ha lasciato perdere Almeno Per quanto ne so Chi reputate sia la persona Che Ishima cerca? Forse Shiba Ma se fosse così Allora Sarebbe dovuto venire con noi Hai ragione In ogni caso Ha ragione Non abbiamo tempo Da perdere con gli affari suoi Dobbiamo sbrigarci Esatto Ok Vicolo di Udagawa Sperando che il nostro amico Indovino Ci aiuti In qualche modo Eccolo qua infatti Però aspetta Fammi andare nel negozio Prima Oh no I miei magnifici graffiti Coperti dall'oscurità Di questo posto Ah Nekoma Dove cavolo sei finito Allora amico Ci aiuterai o no? Kaie Shoka Come sono felice Di vederti sana e salva Anch'io Ehi Se non sei occupato Ti dispiacerebbe aiutarci? Oh Ma sono occupato Sto aspettando una persona Una persona Chi? Una persona che detiene Un potere incredibile Un potere che Non è sovranaturale Oh Strano Ritengo che potrebbe Darci una mano Se vogliamo salvare la città Ci servirebbe Tutto l'aiuto possibile Detto ciò Temo che non riuscirà Ad arrivare al nostro Punto d'incontro Se riuscissi a incontrare Questa persona E fosse disposta Ad aiutarci Allora sarò felice Di darvi una mano Grazie mille State andando a combattere Contro Shiba Giusto? Sì Il piano è questo Kaie Ehi Kaie Sai dirci qualcosa Sui poteri di Shiba? Lo farei se potessi Perdonami Ma continuerò Ad analizzare Tutti i dati che trovo Se scoprirò qualcosa Ve lo farò sapere subito Grazie Lo apprezzo Avete finito? Sì Stammi bene Shoka E di a Rindo Che sarebbe un piacere Per me Fare una divinazione Su sua richiesta Vi aiuterò quando volete Non l'abbiamo mai Calcolato per tutto il gioco E' venuto sempre lui A risolvere la problematica Sì Glielo dirò Ci si vede allora Direi cosa a chi? Dirò a te Di chiedere a Kaie Se vorrei farti predire il futuro Bene Ehi Siete molto amici? Perché? Così Ero curioso Beh sì Lavoravamo assieme Sai Cose da demoni E qualche volta Io chiedevo di predirmi il futuro Sei soddisfatto Della mia risposta? Sì Completamente Sai Puoi fidarti di lui E' un bravo ragazzo Ok Buona sapersi Ok Baciatevi E finitela lì voi due Stavo controllando La rumoripedia E mi sa che Ce li abbiamo quasi tutti Nei rumori Che abbiamo incontrato Ci manca Probabilmente Un dinosauro Uno di mezzo Perché questo è il boss E ok Ma fra questo E questo qua Ce ne manca uno In più ci manca anche Un maialo di mezzo E Credo che ce li abbiamo quasi tutti Ci mancano Probabilmente Gli ultimi boss Che sarà Shiba E La sua evoluzione Visto che Sai che novità Le abbiamo Praticamente Ah ma Questo era il premio A livello difficile Quella spilla Che sfiga Ci manca la Shiba La sua forma alternativa E molto probabilmente Ci sarà la Another day Con altri tipi di rumori Che appariranno Detto questo Sì Abbiamo affrontato Tutti quanti i nemici Ci manca Cioè Tutti i rumori normali Ci manca solo Un T-Rex E un maiale Che è probabilmente Uno di quelli Che abbiamo saltato Nei vari giorni Qualcun altro Che ci blocca la via Allora La cosa che comunque Continuo a dire Che Mi Mi rimane qua È Dov'è Joshua In tutto questo Sono Sicuro Che Nella Another day Perché Siamo chiari Ci sarà Apparirà Joshua O anche Anche solo Nei report Ci manca Ci manca anche Cubo Da affrontare Non solo Shiba Shiba è forte Ma possiamo Batterlo Vero Rindo Yeah Sì Ce la faremo Allora Io adoro Il personaggio Di Shoka Ma ho ancora Un dubbio Dannatamente Qui Ho paura Che potrebbe In qualche Minchiata Rivoltarsi Contro di noi Shibuya Conta su tutti noi Bene Andiamo Prima però Andiamo a mangiare Rindo Bravo Fred Mi piacciono Quei bonus All'improvviso Comunque Altri 8 Caffè E Beat E Rindo Arrivano Al massimo Di attacco Bravo Neku 15 di punti vita Ti vanno bene Ti vanno bene Bravo Anche quel 6 Di attacco Mi piace Bravo Bravo Rindo 10 di punti vita Prima di proseguire Voglio Finire di farmi Tutto il giro Dei vari negozi Per vedere Che cosa hanno Di nuovo Ma guarda un po' Questa potrebbe essere buona Finalmente una spilla decente Ryoji Cazzo Per tutto il gioco Hai fatto solo schifo Ti odio Ryoji Va bene Shiba Sei pronto a fare a botte? Ho paura che potremmo perdere Nah Va bene così Dai Combattiamo Beh Guarda chi è Mi favorito Shibuya Shiba Shibuya 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 Ho rinforzato tutte le mie cose Qui Pensavo potrei Usare l'espresso Che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Rindo lo mette per ultimo Shouka Sakurane Neku Sakuraba E finalmente Rindo Kanade E Minamimoto E Minamimoto Vabbè Positivo E Beat Non lo cagate nessuno Che cazzo stai dicendo? 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 No, non lo so All'altro che importa È che sei qui ora Ho stato freddo Per finalmente Converti con te, Neku Il più famoso giro In tutto il Shibuya È dentro mia rinforza Se posso Stai dicendo? E ora Non c'è nessuno Che può fermare Quindi Neku È l'unico Che può fermarlo Questo perché? Ho scaldato la città Per te, sai? Ho anche cercato Di luce Di RG Con queste Silli Pins Cosa? C'è quello che Stai utilizzando Questi pin Per? Per trovare Neku? Sì, è ironico Vedendo che L'ho scaldato Di mia nonna Questa volta Come sempre È sempre così Che avete dei poteri Incredibili Non esattamente Come ho sperato Sta bruciando Sta bruciando Sta bruciando Chi l'avrebbe mai detto È sciocca Eh già Eh già Eh certo A parte che Dovremmo usarli Sicuro Ma a parte Che li dovremmo Usare di sicuro Però secondo me Usarli oggi Succederà un casino Sì Ed eccola qui La Spilla Di Shiba Siamo in difficili Abbiamo il 51% Di ritrovare Gli oggetti Eh Tutto sotto sopra Ah beh È una farfalla Lui Ok Te ne rendi conto Di quanto danno Ti ho appena fatto Shiba Te ne sei reso conto Di quanto ti ho appena Fatto Bastardo Certo che li stiamo Tenendo su di te Scemo Anche lui C'ha la spada Posso dire Che questa fase qua Di Shiba È stata Più semplice Che Che Susukichi Morto Questa era una Una fasetta Stupida Sicuro Però non abbiamo ottenuto Spille Che tristezza Sì Certo È tutto Normale Ora Non è un sogno Ah vai in automatico Ok Ne dubito Cicci Cicci Adesso si mette a ridere Bello che le persone Sni trasformate Questa sequenza qua mi è piaciuta Lo sai benissimo che invece Lo sapete tutti che invece dobbiamo combatterla Vero? Sì però Dobbiamo tenerli un po' da parte i colpi Perfetto Soprattutto questi qua Elettrici Però per fortuna Sono rumori Di quelli Meno forti Sono i primi rumori Che incontriamo durante il gioco Però la simulazione si sta per rompere dai Ho visto un rinoceronte o ho visto male No Noi stiamo facendo nulla Esatto Quando è iniziato a flickerare col bianco Non abbiamo più potuto fare danno ai nemici Ok È una rosa quella però Hai piaciuto tecnici? Se così Siamo felici di sapere che la vera Fani è iniziato a cominciare Ho appena avuto con te Io Spero di sicuro di rendere i tuoi finali momenti veramente calcoli Certo, certo Però Shiba Dov'è? Ma c'è più di uno Shiba? Ma c'è più di uno Shiba? Dai, scendi Non riesco a capirlo perché non riesco a colpirlo a volte Ci deve essere Un qualche momento in cui proprio non è neanche intaccabile O forse dobbiamo solo inseguire Quello che si illumina E in questa sequenza non posso usare il beat drop E gli attacchi ravvicinati Lui si trasforma in parpalla Li evita tutti Non vedo, non vedo Sai cosa? Raffanculo Sto giro te lo uso Qualunque di questi sia lui Almeno un colpo lo dovrà prendere Dai che forse Lo sapevo Ok, no Per un attimo Per un attimo ho pensato fosse ancora intoccabile di nuovo E non abbiamo preso una spi... Sì, spilla ottenuta Che bello Maledizione Ti prego, dimmi che è una spilla utile Non cambiare mai Ed è un diamante È un tasto L1 Vista così Boh, potrebbe essere un altro shotgun Tanto c'è ancora la fase in cui si trasforma Perché sicuro si trasforma Certo, come no Però siamo stati bravi Su quello non lo voglio negarlo È stato peggio con Susukichi Totalmente Come hai detto prima Dobbiamo declarare un vincente E se non lo dicessi Allora mi permette No Pensavo mi facesse un sorrisetto io Ma io sono l'executore Executore? È esatto È un titolo o ti sei chiamato tu così? Perché finora abbiamo solo visto Game Master Direttore Compositore Ed esecutore Quindi E tu no? Dai, vieni con noi Vieni con noi Dai Lo sapevo che c'era ancora lui Cosa stavo per dire Cosa stavo per dire però Shocker più interessato a questo Che a Kubo? Cosa stavo per dire? Cosa stavo per dire? Kubo Come sempre dico Devi aspettare L'aspettato Sei preparato Per un futuro Che non vedi E questo futuro Arriva 44 minuti E 44 secondi Dopo 4 pm E ora È un Phantom Thief Gli uccelli attivati Dalla nostra spilla Quindi Kubo Era il cattivo finale Qui? Di conoscritto Il cattivo Per dire? La pezca Che? Puoi cattivo Ora anche lei viene colpita Il meteorite gigante Che è creato Dalla forma della spilla di rindo Tutto questo mi ricorda davvero tanto Persona 5 Mi ricorda il giorno di Natale E tra l'altro oggi è la vigilia Quando sto registrando Quindi ciao a tutti dal passato Quella falsa Quella falsa Ok che sarebbe Lui un angelo Certo Noi lo sappiamo Tu no E il compositore dov'è in tutto questo Scusami Quindi Shibera è una pedina Anche lui Quindi cosa Ti dicevi che usavi Shiba Che potresti distruggere Shinjuku 2 E non Sono veramente preso da questa parte finale Sono veramente preso da questa parte finale E dov'è Minamimoto Dov'è Minamimoto Dov'è Minamimoto Dov'è Minamimoto Ma se non Se non Non usare Non usare No La patata No Che rucetta lei Sì facendo solo il gioco di cubo Però secondo me siamo tornati più indietro di questa giornata Secondo me torniamo molto più indietro O addirittura La boot Io vado sempre avanti con le mie congetture Incontriamo il compositore Secondo me adesso appare Joshua No 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 lo so che non succede Lo so che non succede Ma se c'ho ragione Dio mio Parentesi Ora che abbiamo ottenuto anche dei punti amicizia Possiamo comprare anche un'altra abilità SBY Chapter Closed E' un'altra abilità